Molte volte la sicurezza degli anziani viene messa a repentaglio dall'azione dei malfattori che approfittano della buona fede delle persone. Con l'obiettivo di prevenire e ridurre al minimo gli episodi di truffa è stato presentato in prefettura Pesaro un vademecum sulla sicurezza, un progetto che rientra nella campagna denominata Più Sicuri Insieme, ideata dalla Confartigianato Nazionale e organizzata dall'ANAP Confartigianato Persone dal Ministero dell'Interno con il contributo della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Formate qualche anno sono sempre più indirizzate verso questa fascia d'età. E sono in aumento o in crescita? Purtroppo sono in aumento e quello che preoccupa è che molte delle truffe non vengono denunciate. La campagna serve anche per questo, un appello agli anziani, a tutti gli italiani, a tutti i cittadini. Questi opuscoli contengono semplici regole di comportamento suggerita agli anziani dalle forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, in banca, per strada, sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici. Ed ecco alcuni consigli. Porta con te solo il denaro indispensabile. Non andare in banca negli orari di punta e se possibile chiedi ad un parente di accompagnarti. Non tenere il portafogli nelle tasche posteriori e tieni la borsa ben stritta davanti. Fai attenzione a chi si rende disponibile ad aiutarti quando ad esempio hai una gomma bucata o ti contesta un danno subito come uno specchietto rotto o un danno alla carrozzeria. Nel dubbio allerta le forze di polizia. Non farti distrarre da chi ti avvicina chiedendoti di pagare un debito contratto da un tuo parente. Non consegnargli per nessun motivo il denaro. Quando rientri a casa poi stai attento che nessuno ti segua. Chiudi la porta e non lasciare le chiavi nella serratura. Non aprire né agli sconosciuti né agli appartenenti alle forze di polizia se non sei sicuro della loro identità. Nel dubbio contatta i numeri di emergenza. Il principale suggerimento è quello di diffidare. Diffidare continuamente, non assecondare nessun tipo di richiesta anche formulata in maniera affabile e suadente. e soprattutto non credere mai a nessun tipo di inviato né di enti preposti ai servizi pubblici né di uffici postali né di altre organizzazioni che assolutamente non agiscono con personale sul territorio. Fondamentali sono le denunce, ha proseguito il perfetto ma a volte si avvergogna nel rivelare di essere stati truffati. Queste difficoltà psicologiche, ha detto, vanno superate affinché questo fenomeno, ad oggi in crescita, possa essere ridotto o addirittura eliminato. Quanti sono gli iscritti qua a livello locale? Allora, nella provincia di Ancona abbiamo oltre 8.500 iscritti mentre nella provincia di Pesaro Urbino 3.500 iscritti perciò credo che sia insieme un grosso numero che rappresenta una gran massa di persone.